Salve a tutti, buongiorno, sono Dario, ho 59 anni e vengo da Terracina, in provincia di Latina. Diciamo che circa un anno fa ho cominciato ad accusare problemi di tenuta dei denti, cioè ho scoperto di essere affetto da una parodontite e ho cominciato a perdere anche qualche dentino sull'arcata inferiore. Per caso sono venuto a conoscenza tramite internet, anzi proprio Facebook, sono venuto a conoscenza della clinica del dottor Palmas, ho preso informazioni e sono stato contattato da un loro consulente, molto gentile devo essere sincero. Lui mi ha spiegato un attimino quali erano le condizioni, quali erano le possibilità e quali erano eventualmente anche i costi, diciamo, personali cali. Allorché io ho trasmesso una mia ortopanoramica recentissima e nel giro di pochi giorni ho ricevuto il preventivo con l'offerta di prestazione. Diciamo che ho deciso quasi subito nel giro di 20 giorni di venire ad operarmi perché comunque avevo proprio la necessità di risolvere il problema, perlomeno un problema che non era in fase terminale però cominciava a darmi fastidio. Io sono abituato a stare in mezzo alla gente per cui ho bisogno di una bella prestanza, ho bisogno di un bel sorriso, ho bisogno di parlare sempre, quindi ho deciso subito. Che dire, della clinica posso parlare solo che bene. Allora sono stato inviato a Bucarest per i noti motivi che mi hanno impedito di andare in Moldavia e comunque a Bucarest sono stato accorto benissimo dal momento in cui siamo sbarcati dall'aereo, io e mia figlia che mi ha accompagnato, al momento in cui abbiamo avuto accesso alla clinica. L'unica paura che avevo, veramente grande, era l'intervento chirurgico e lì veramente paura, avevo tanta paura. Il chirurgo che mi ha operato è stato di una bravura eccellente. Mi ha operato in soli due giorni, in un giorno un'arcata e in un giorno l'altro, al giorno successivo l'altro senza provare dolore. La sera addirittura ho potuto mangiare quel poco che potevo mangiare a livello di liquidi, però benissimo. E già dal giorno stesso del secondo intervento abbiamo cominciato a fare le prove per la protesi provvisoria. Ed eccomi qua. Con due giorni di anticipo abbiamo finito tutto il programma, le cose sono andate bene, mi sto abituando alla mia bocca bionica perché chiaramente capisco che questi non sono più i miei denti ma saranno i miei prossimi denti. E niente, grazie a tutti sono soddisfatto.